Sopra! Sopra adesso! Sopra! E' la mia Giuseppe! Guarda la balla, guarda la balla! A domani! 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 Come si fa? Come si fa? Ma vuoi tutta via questa balla? Gliela passata e gli hai detto dove vanno a segnare? Ma la balla è giusto? Mamma mia! Ma come si fa? Io non lo so, mamma mia! Non gliele guarda? E' inguardabile, inguardabile! Come si fa a perdere un ballo così? Io non lo so, ma gli ambagliano le cose pratiche, non gliele imparano? Chi lo ballò? De piatto? Vai avanti! Ma l'allenatore gli ambagliano, è loro che noi fanno! Ma allora quando facciamo gioca? Alla mattina dormi? Alla sera dormi? No! 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 Che testa, signore! Che testa! No! Vai ragazzi! Due metri in fuoricioco! Vede quelli laterali? Sì! 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 La madonna che è sardella che gli è partita! No! Però allora inviallati! No! No! Ma se vieni via San Benedetto dove vieni a San Benedetto? No! 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 Vieni proprio! Anche pareggi! Se vieni via San Benedetto! Non si può fare! Se vieni con Madelea! Eh! Camadondo! Non ci siamo eh! Bello schema! Aveva fatto una bella cosa! Bello schema aveva fatto! Solo che dopo... Che bello schema! Giovanni Teseve! Giovanni Teseve! Vai là su dieci! Giai! Mi hai ricordato? Te sentizzo porgo di... Ho già fatto tre gol l'anno scorso a casa? Chiì? Sì sì! Di voi uno gli ex cacciatori? Cacciatore è pure Ambrosino! Mai è pure Ambrosino? No, cuscì! Ma no, nel centro campo facciamo schifo, a parte facciamo schifo tutti! Mamma mia, pericolos, pericolos, pericolos! Pericolos, pericolos, pericolos! Bella, bella balla! Vai Marco, attivate! Tira Marco! Vanno avanti Marco! Tira un pochetto più avanti! Eh... Sì, sì! Bravo Marco, bravo! No, 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 no! Sì, 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 sì! Voi dì qui non mi pare, c'è il sixt Voilà! Non direi no, a madre! Oh! Bravo Marco, bravo! Bravo Marco! È qui gli ultimi? Vai E vai... Vai Elia, vai! Vai Elio, vai Elio! Mettila! 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 Porca madre! Quando senti? Vai lì! Bella Michelo! Tira via mamma! Tira via mamma! Tira via mamma! Non si può sentire! Non si può sentire! Tira io! Non si può sentire! Tira io! La punizione è netta! E' una madonna! E' una madonna! Devi passata dietro! Però devi passata questa palla! Se la passata dietro non lo segnavo! C'è la patrica! No, Alessandro non è al primo tempo! Adesso! Mettila Vannino! Un piedino che dà una tirata! Bella grossa! Buone! 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 Va bene! qui sto borghettino, se c'è chiappa, forse Paiale, aiutatelo metti in mezzo vai dai sento Pier qui sto borghettino qui sto borghettino qui sto borghettino è andato a cuore vai... vai vai... vai attendo qui oro però più qui sto borghettino ciao Abbiamo aperto pure questo, via!